Ecco il pulcino che mancava, eccolo lì nell'angolo, il piccolino lo vedete? E' lì nell'angolo e i tre sono dentro nel nido. Su Milano sta diluviando e quindi per ora i genitori non possono portare il cibo, ma appena ci sarà una tregua sicuramente lo faranno. La madre è sempre nella sua postazione, sull'angolo lì a destra, ora ve la vado a cercare. Ecco l'ho trovata, guardate l'angolino lì a destra, la vedete la Giulia? E' nel suo osservatorio e non li perde di vista. Grazie. 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 Grazie.